Ben ritrovati nel canale di Simodefa. Ho deciso di realizzare questi video per andare a spiegare in maniera definitiva come funziona l'invio di criptovalute da una piattaforma ad un'altra, da un exchange ad un altro. Mi sembra assurdo che nel 2024 persone facciano ancora fatica a capire come funziona l'invio di criptovalute e sbaglino l'invio. Quindi con questi video vi andrò a far vedere come funziona effettivamente un invio di cripto. Ragazzi è molto semplice quindi quello che dobbiamo sapere è che ciascuna criptovaluta funziona nella propria blockchain, quindi l'invio di bitcoin avviene nella blockchain di bitcoin. Di conseguenza se noi vogliamo andare ad inviare bitcoin da una piattaforma ad un'altra dovremo andare a generare un indirizzo ricevente compatibile con per esempio bitcoin. Cioè se io ho dei bitcoin su Binance e li voglio portare dentro Bybit devo generare un indirizzo ricevente di bitcoin all'interno di Bybit. Se per esempio io ho degli USDT all'interno di Binance e li voglio portare all'interno di OKX dovrò generarmi un indirizzo ricevente USDT all'interno di OKX. In pratica ragazzi se noi trasferiamo bitcoin dobbiamo inviare bitcoin tramite la chain di bitcoin quindi ricevere bitcoin in un indirizzo bitcoin. Se inviamo USDT, Ethereum o qualsiasi altra cripto dovremo generare un indirizzo ricevente in quella determinata cripto. Il procedimento è veramente semplice ed è più o meno simile in tutti i major exchange quindi in questo video procederò con la spiegazione di come avviene un normale invio di criptovalute. Ora passo al computer e parto con la spiegazione di questo invio di cripto. Perfetto signori eccomi all'interno di Binance. Durante il corso di questo video vi andrò a far vedere come inviare criptovalute da Binance a Bidget o viceversa. Possiamo dire che Binance e Bidget sono degli exchange similari e entrambi ottimi. Sono tra i major e i principali exchange cripto. Se noi abbiamo delle criptovalute all'interno di Binance e le vogliamo portare all'interno di Bidget dobbiamo andare su il nostro wallet quindi cliccare qua in alto e cliccare su panoramica del portafoglio. Cliccando su panoramica del portafoglio vi ritroverete in questa schermata. Io adesso sto coprendo, vedete il mio saldo per privacy. Se voi avete delle criptovalute ve le ritrovate all'interno del saldo. Quindi voi da qua vedete che avete tre pulsanti, depositi a prelievo e contanti. Se appunto per esempio detenete BNB vi ritroverete il saldo in BNB qua dentro. Tutti gli asset ve li andate a ritrovare sotto la voce asset spot. Quindi se voi detenete delle criptovalute spot ecco ve li ritrovate sotto la voce asset spot. Per prelevare queste criptovalute vi ho detto abbiamo il pulsante preleva quindi dobbiamo cliccare sul pulsante preleva e cliccando sul pulsante preleva ci andrà a chiedere che criptovaluta vogliamo andare a prelevare. Quindi posso selezionare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta. Assumiamo di lasciare Bitcoin però se voi aprite questo elenco potrete scorrere tutte le criptovalute che avete appunto a disposizione del wallet spot. Quindi per semplicità lascio Bitcoin. Ecco qua mi chiede un indirizzo ricevente. A questo punto dobbiamo andarci a prendere l'indirizzo ricevente all'interno di Bidget. Quindi vado all'interno di Bidget, vado all'interno del wallet spot che me lo trovo qua e vado sul pulsante deposita perché appunto chiaramente in questo caso sto effettuando un trasferimento da Binance verso Bidget. Quindi devo generare l'indirizzo ricevente all'interno di Bidget. Procedo con Bitcoin. Procedo con la rete ragazzi. Quando io trasferisco Bitcoin di solito trasferisco Bitcoin con la rete BTC. Quindi questo è l'indirizzo Bitcoin con la rete BTC. In ogni caso voi potrete ecco generare per esempio l'indirizzo BSC ma io preferisco BTC. Quindi mi genero questo addresses, questo indirizzo ed effetto un copy indirizzo. A questo punto ritorno su Binance ed incollo l'indirizzo qua dentro. Come vedete l'indirizzo del portafoglio corrisponde alla rete. Dovete assicurarvi chiaramente che questo indirizzo corrisponda alla rete giusta. E andando a selezionare da qua la quantità, se non sbaglio io adesso non ho Bitcoin all'interno di Binance. Però se avessi una quantità e andassi sul pulsante prelievo mi andrebbe ad effettuare il prelievo da Binance a Bidget. Chiaramente lo posso andare a fare con qualsiasi altra cripto, quindi adesso vi ho fatto vedere il procedimento con Bitcoin. Se volessi andare ad inviare dei Ripple, seleziono Ripple e qua dovrò andare ad inserire l'indirizzo ricevente all'interno di Bidget. Quindi selezionare una criptovaluta, in questo caso non più Bitcoin ma XRP, quindi seleziono XRP, seleziono una rete, in questo caso la rete da utilizzare è XRP, vado su Ho Capito e mi genero l'indirizzo XRP con il tag associato. Perché per esempio XRP per essere inviato deve, ecco, dobbiamo andare ad inserire sia un indirizzo sia un tag. L'indirizzo è il tag che lo andremo ad inserire, vedete, qua. Quindi facciamo proprio un esempio, vedete, mi copio un indirizzo, me lo vado ad incollare, ok? A questo punto mi chiede la memo, appunto il tag, quindi questo è il tag, mi copio anche il tag ed eccoci qua. Da qua seleziono la quantità, come detto io non ho XRP all'interno di Binance, ma andando poi sul pulsante prelievo mi andrà ad effettuare il prelievo. Se invece volessi andare a fare il procedimento opposto, adesso ragazzi sono un po' più veloce, spero abbiate capito come avviene il trasferimento, dovete andare su Binance, quindi gli indirizzi di deposito di Binance si generano da qua. Da qua noi possiamo andare a, vedete, selezionare deposito a cripto e selezionando la cripto, quindi da qua possiamo andare a selezionare tutte le cripto che vogliamo, per esempio Bitcoin, ok? Seleziono la rete anche qua, io ripeto utilizzo Bitcoin, ecco, trovo l'indirizzo di deposito. Chiaramente la rete Bitcoin ragazzi è quella che ha più conferma, potremmo andare a, per esempio, inviare con la BSC se Biget ha la BSC, però diciamo in generale, ecco, per generare l'indirizzo ricevente su Binance lo andrete a fare da qua selezionando la criptovaluta. Quindi per inviare invece da Biget verso Binance dobbiamo andare da questo pulsante, al posto che andare sul pulsante deposito, prima appunto ci siamo generati l'address di selezionante, a questo punto andiamo sul pulsante preleva. Quindi andando sul pulsante preleva potrò andare a selezionare la criptovaluta che voglio prelevare, appunto, ripetiamo l'esempio con Bitcoin, quindi seleziono Bitcoin, ok? A questo punto mi dice prelievo onchain, per prelievo onchain si intende un prelievo appunto nella rete, non interno a Biget e qua andrò ad inserire l'indirizzo ricevente di Bitcoin, ovvero questo indirizzo qua che appunto me lo sono generato da Binance. Quindi cosa vado a fare? Copio questo indirizzo, lo incollo qua e vado sul pulsante successivo, ok? Andando sul pulsante successivo potrò andare a selezionare la quantità, vedete io non ho Bitcoin, ma andando sul pulsante preleva, ecco, riuscirete a trasferire le criptovalute e quindi portare il saldo da Biget a Binance. Signori per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro e di avervi spiegato come funziona questo invio di criptovalute. Rimango in ogni caso a disposizione nei commenti per eventuali dubbi e domande. Anche per oggi io sono arrivato alla fine, quindi noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. In un prossimo video